Al servizio Inquadrati poco fa i tifosi di Conegliano Di Novara anzi che stanno assistendo la partita accanto a quelli di Conegliano Pallonetto intanto che non tocca a terra Cara Kurt, pallone ancora in gioco Bowosh, dietro, arriva Gonu da seconda linea Tocca il muro di Crichella Fersino, Hancock, dietro Cara Kurt esplode il colpo La difesa di Gonu, imprendibile